voglio sentirlo anch'io un secondo amore un secondo non è facile non è facile tu non sei facile no no i tuoi file sono troppo pesanti i tuoi file sono troppo pesanti fabio non posso mandartelo su discord te lo stremmo su disco va bene va bene fabio va bene sarà una merda la merda più bella ok mi hanno dato il video dalla regia tu senti quando vuoi fabio ok ragazzi siete pronti perché questa cringata veramente vi ammazzerà ale lo faccio per te fabio dammi il via scusami alessandra scusami fabio dammi il via fabio se mi hai dato il via non lo sento fabio dammi il via paolo no 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 paolo c'è tua paolo 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 ma che cazzo fabio dammi il via ah ma sei vivo fabio non ho molto tempo là fuori dammi il cazzo di via ho sbagliato avrei dovuto pensarci prima a mandarti questo video di merda ma adesso dammi il via ti stremo sul disco e tu lo mandi in live a da il video al televisore inquadrarlo come poveri ma dammi il via, ti prego dammi il via Vabbè finché è vivo io mi siedo